Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del Tg6. In apertura la politica, un'intera area agricola a rischio. Il Movimento 5 Stelle denuncia la realizzazione di una piattaforma per il trattamento e il recupero dei sedimenti di dragaggio che dovrebbe sorgere a Città Sant'Angelo. Secondo le carte in possesso dei 5 Stelle, l'area sarebbe definita come industriale, ma in realtà ci sarebbero delle coltivazioni agricole e metterebbero a rischio prodotti DOP e IGT. Sentiamo il servizio di Francesca Romanatesti. Un'interpellanza rivolta al Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che arriva dopo segnalazioni di associazioni e cittadini di comuni interessati dalla realizzazione di una piattaforma per il trattamento e il recupero dei sedimenti di dragaggio fluviali e marino costieri. Il naccio della questione ruota intorno ad una contraddizione tra carte e stato effettivo dell'area. Se da un lato l'area interessata a località Piano di Sacco a Città Sant'Angelo risulta come zona industriale, dall'altra sono i residenti a denunciare che quelle aree sono a vocazione prettamente agricola e soprattutto da quelle aree arrivano alcuni dei più blasonati prodotti da Abruzzo a marchio DOP e IGT. Sì, intanto è una battaglia che stiamo conducendo ormai da mesi con tutta una serie di associazioni ambientaliste e comitati. Abbiamo partecipato al Comitato Via Regionale, abbiamo interessato i massimi vertici della Regione Abruzzo per bloccare quest'operazione, che a nostro avviso impatta fortemente sull'ambiente e sul territorio. Parliamo di Piano di Sacco di Città Sant'Angelo dove una ditta vorrebbe insediare questo impianto di trattamento dei sedimenti di dragaggio e noi diciamo no per due motivi. Uno perché c'è un forte impatto ambientale e quel territorio pur essendo industriale ha vocazione agricola e non ha tutta una serie di servizi affini che potrebbero mettere in sicurezza il territorio. Secondo l'interpellanza, quell'area, nonostante sia stata denominata industriale, non sarebbe dotata di fognature, impianto di depurazione, antincendio, relative vasche. Infine i 5 Stelle muovono dubbi anche sulla società che dovrebbe occuparsi dell'opera. Abbiamo anche fatto rilevare che la ditta proponente è comunque stata interessata a una grande inchiesta, quella sul dragaggio del porto di Pescara e chi viene interessato in un'inchiesta che riguarda smaltimento di rifiuti, a nostro avviso, secondo la nostra visione della politica, non può continuare a gestire quel tipo di prodotto. Quindi ho presentato un'interpellanza in Regione Abruzzo, depositata l'altro ieri, mi dovrà rispondere il Presidente della Regione Abruzzo al quale chiediamo di intervenire prepotentemente e bloccare questa operazione. Ho interessato il Comitato Via per l'ennesima volta perché si dovrà esprimere a breve. Le associazioni hanno presentato tantissime osservazioni tecniche, specifiche e amministrative e ritengo che questa procedura vada bloccata. Restiamo alla politica perché questa mattina si è riunita la Giunta regionale a Pescara ed ha approvato la delibera che destina 229 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione a lavori per la manutenzione della rete viaria nelle quattro province, al potenziamento dei depuratori su tutto il territorio. Le strade provinciali sono stati destinati 100 milioni di euro, 28 al sistema viario della provincia di Chieti, 26 a Teramo, 24 a Pescara e 22 all'Aquila. I finanziamenti dovranno essere destinati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle arterie esistenti. Altri 100 milioni invece sono stati assegnati all'implementazione del sistema depurativo, 30 milioni serviranno per la realizzazione dei nuovi depuratori a Pescara e Spoltore, oltre al completamento del sistema affognario di San Giovanni Tiatino. Altri 70 milioni invece andranno a finanziare il sistema depurativo nella zona industriale e turistica nelle aree del Teramano e dell'Aquilano, oltre anche al Chietino. Andiamo avanti, potrebbe divenire un centro unico abruzzese di accoglienza dei migranti, la dismessa Caserma Rossi all'Aquila. Noi con Salvini e Causa Pound dicono no al progetto. Daniela Rosone. Potrebbero essere temporaneamente alloggiati nella dismessa Caserma Rossi dell'Aquila i migranti che arrivano in Abruzzo. L'ipotesi che la Caserma Aquilana possa divenire un centro unico potrebbe essere presto realtà. Secondo il capogruppo di noi con Salvini in comune, Emanuele Imprudente, questa soluzione che per ora è temporanea potrebbe divenire in futuro stabile. Attualmente, lo ricordiamo, sono 675 profughi ospitati nei centri di accoglienza temporanea della provincia, mentre il totale regionale è di 2.498, con la provincia di Chieti a quota 664, quella di Pescara a 150 e infine la provincia di Teramo che ha colto 649 migranti. Qualche giorno fa sono arrivati all'Aquila, ma solo di passaggio, gli ultimi 40 profughi assegnati alle strutture di accoglienza delle altre province, 20 a Chieti, 10 a Pescara e altri 10 a Teramo. La città, secondo Emanuele Imprudente, non può permettersi ad oggi, dopo il terremoto, l'accoglienza dei migranti. In Abruzzo ad oggi le caserme dismesse, ricorda, sono due, la Rossi, che prima ospitava il nono reggimento Alpini, oggi alla Pasquali dopo la chiusura del 33esimo reggimento Artiglieri Acqui, e la Battisti di Sulmona. Il dubbio legittimo che viene, afferma Imprudente, è che si stiano cercando degli spazi pubblici già allestiti, colletti e quant'altro. Fermo restando, dice ancora, che i rifugiati politici vanno sempre accolti, è giusto e meno dispendioso, tuttavia, aiutare chi si sposta per problemi economici in casa propria. Imprudente parla anche del rischio che i migranti possano essere accolti negli appartamenti del fondo immobiliare, che ci sono all'Aquila dopo il terremoto. Intanto in città è comparso uno striscione di casa Pound, con scritto Refugees Not Welcome, cioè i profughi non sono i benvenuti. Con quest'azione vogliamo dar voce alla perplessità dei cittadini sulla trasformazione dell'ex caserma in un centro accoglienza, ufficialmente temporanea, ma che potrebbe trasformarsi in definitiva. Continueremo la battaglia contro questo business di pochi privati, che lucrano sui lati appalti per l'accoglienza, detto Simone Laurenzi di Casa Pound. Già in precedenza, lo ricordiamo, a Pizzoli, popoloso comune dell'Aquilano, erano comparsi degli striscioni. Era intervenuto il sindaco Gianni Anastasio per la rimozione, ma aveva comunque specificato, il primo cittadino, che a Pizzoli esiste già un sostanzioso numero di migranti ben integrati e che il comune dell'Aquila non poteva permettersi altro. Ricordiamo anche che nell'idea del primo cittadino Massimo Cialente c'era quella concreta di trasformare tutta l'area della Rossi in una cittadella dove raggruppare tutte le scuole aquilane. Adesso ci occupiamo della balneazione, le piogge e il maltempo di queste ore hanno fatto sì che il comune di Pescara abbia dovuto emettere una nuova ordinanza che vieta la balneazione per le prossime 48 ore a seguito dei valori e delle comunicazioni fatte dall'ACA in merito agli sfiori. Scrive il comune, è stato necessario ricorrere nuovamente al divieto temporaneo di 48 ore di balneazione che vige sulla rivera a nord nella zona antistante via Muzzi e a sud nella zona antistante Fosso-Vallelunga. Il comune ricorda che i campionamenti di routine effettuati dall'ARTA lo scorso 9 agosto hanno dato valori conformi in tutti i punti di prelievo del litorale cittadino. Dunque sarebbe questa una misura precauzionale. Il centrodestra dopo numerose segnalazioni ricevute dai cittadini chiede all'amministrazione comunale di Pescara di potenziare le pattuglie che fanno servizio notturno, pattuglie della Polizia Municipale al fine di garantire più sicurezza ai cittadini. Sentiamo. Sicurezza ancora al centro della polemica. Pescara diventa una città preda dell'incuria, dei balordi e dell'accattonaggio. Il centrodestra torna a denunciare poca sicurezza e chiede un intervento deciso dell'amministrazione per poter ripristinare ordine anche laddove pochi giorni fa sono state fotografate scene poco edificanti dai passanti. Noi lo stiamo dicendo da mesi che la città verse in uno stato di totale degrado, totale abbandono e non c'è una regia politica che governa dei processi fondamentali per la nostra città. Una città che vede in ogni strada, dalla periferia alle parti centrali, una incuria devastante, aiuole non manutenute, strade totalmente dissestate e poi c'è un problema molto percepito dalla popolazione pescarese, ossia quella della sicurezza. Oramai tutti i giorni ci sono atti di vandalismo, spaccate, persone vengono aggredite. Sappiamo che la sicurezza non è un tema centrale di un'amministrazione comunale, però noi riteniamo e invochiamo altavoce che il sindaco Alessandrini si faccia sentire dentro il Ministero degli Interni per potenziare il lavoro già pregevole che le forze dell'ordine fanno. Così noi chiediamo che con insistenza che venga in maniera definitiva affrontato il problema del servizio notturno della Polizia Municipale, perché potrebbe essere un deterrente fondamentale. Così come chiediamo come mai il Comune vuole fare un bando per degli stagionali, 15 stagionali, parlo della Polizia Municipale, siamo oramai all'11 agosto e la stagione volge al termine e quindi anche qui sommiamo e accumuliamo ritardi ormai incredibili. E torniamo all'Aquila, la chiusura di Via Aldomoro e di Via San Gabriele della Dolorata nel quartiere di San Sisto sta creando disagi a famiglie e commercianti. I residenti dei palazzi sono segregati in casa e senza viabilità alternative e i commercianti ovviamente hanno disagi ai loro affari. Sentiamo il servizio. Una situazione paradossale che è anche dell'incredibile. Dal 22 giugno scorso Via San Gabriele della Dolorata, l'Aquila nella zona di San Sisto è completamente chiusa. Il motivo? Un'antica fornace di proprietà privata che risulta pericolante e a rischio crollo. Da anni, così, almeno 12 ci spiegano. Il guaio è che in zona insistono tantissime attività commerciali ma anche molte famiglie che abitano in condomini ristrutturati e che tra due mesi circa sono completamente tagliate fuori. Un disabile addirittura non può più uscire da casa. Commercianti e famiglie sono barricati e infuriati anche perché non esiste una viabilità alternativa e nessun intervento si sta portando avanti. Commercianti e famiglie stanno portando avanti, tra l'altro, anche una raccolta firme per chiedere al Comune di intervenire al più presto. Come si può vedere anche dalle riprese, qui, spiegamente in Via San Gabriele, da due mesi le famiglie sono completamente isolate di cui il problema più grande è che a distanza di 50 metri da qui ci sono anche delle persone disabili. Se eventualmente dovrebbe intervenire un'ambulanza io non so realmente che cosa potrà succedere. Questa è la cosa più importante. Una situazione che è resa ancora più pesante dalla chiusura della vicina Via Aldomoro interessata lo scorso 25 luglio da una frana che ha interrotto la viabilità nell'importante arteria di collegamento per la zona di Valle Pretara e per la quale c'è un'inchiesta della Procura. La strada è stata messa a rischio crollo dall'intervento di abbattimento di un palazzo adiacente al manto stradale. I lavori di scavo delle fondamenta del palazzo hanno sottratto stabilità al manto stradale che è rovinosamente franato. La strada è chiusa a qualsiasi passaggio sia di auto che di pedoni per la salvaguardia dell'incolumità ma nessuna rassicurazione in ordine a un intervento di ripristino della viabilità è stata data agli operatori residenti del quartiere che hanno addirittura sentito parlare di oltre sei mesi di chiusura. Tante, dicevamo, le attività commerciali che alimentavano i servizi primati nel quartiere costrette ora a fare i conti con l'interruzione di affluenza dovuta senza dubbio al repentino blocco della strada. Queste attività commerciali che sono in questa zona sono già allo stremo visto che la crisi è già totale. Con queste chiusure delle strade sia di Via Aldomoro che di Via San Gabriele a Dolorata purtroppo non potremmo vivere a lungo. Il problema più grande è che le istituzioni in questo momento Via San Gabriele è chiusa da due mesi ogni giorno dicono sì, stiamo provvedendo, stiamo facendo ma in realtà queste cose non stanno andando avanti. Via Aldomoro che è una di quelle strade principali in questo momento la viabilità è completamente chiusa cioè per arrivare alle attività commerciali i clienti non sanno come fare. La cosa più importante è che fra qualche giorno ripartiranno le scuole e in quelle zone in cui la viabilità pullman, scuole, poste, banche e quant'altro sono irraggiungibili. A Pescara da martedì il 16 di agosto sarà introdotta la carta d'identità elettronica tante le nuove funzionalità e soprattutto maggiore sarà la sicurezza contro il furto dei dati. Un nuovo servizio dal comune di Pescara in questo caso si parla di carta d'identità elettronica da quando verrà introdotta? Sì, da martedì iniziamo ufficialmente appunto a consegnare le nuove carte elettroniche digitali una rivoluzione attesa in Italia da 19 anni e Pescara parte insieme ai primi 200 comuni d'Italia e abbiamo quattro postazioni tre saranno in Piazza Italia e una in Piazza Grue mentre nelle altre circoscrizioni non verrà ancora attivata in attesa dell'arrivo delle altre postazioni che il Ministero ci ha garantito e la nuova carta costerà 22 euro e 21 centesimi e verrà consegnata direttamente a casa dal postino entro sei giorni diciamo che sicuramente è una rivoluzione che creerà qualche disagio al cittadino abituato a poterla riprendere direttamente a pagarla anche molto meno dato che è cartacea ma vero è che avrà con sé tantissimi vantaggi ricordiamo che su questa carta ci sarà l'impronta digitale sarà molto più difficile clonarla al contrario del passato e sarà più semplice andarci all'estero in più sarà dotata di un PIN con il quale sarà possibile accedere a tantissimi servizi legati agli enti statali e comunali andiamo avanti e adesso ci occupiamo della Tendopoli in corso di svolgimento a San Gabriele terzo giorno per quanto riguarda il raduno religioso il tema dibattuto è quello della misericordia che si è fatta tenda il servizio di Paolo Renzetti Padre Cordeschi trentaseiesima edizione della Tendopoli di San Gabriele quest'anno il tema è quello della misericordia un tema più che mai attuale fortemente evoluto da Papa Francesco sì noi l'abbiamo attualizzato la misericordia si è fatta tenda cioè il Papa ha detto che il nome di Dio è misericordia è bellissimo pensare che questo questo nome di Dio questa misericordia abita l'uomo abita la tenda perché l'uomo è la tenda di Dio quindi l'uomo è il luogo della misericordia per eccellenza una tendopoli che vede anche quest'anno tanti giovani provenienti da tutta Italia ma anche dal Sud America sì questo era un mio sogno non so forse lo sapranno tutti ma degli amici miei nel giorno della mia festa del 50 anni della mia professione mi hanno fatto delle offerte mi hanno regalato circa 6.000 euro io ho avuto la possibilità di far venire da Venezuela questi ragazzi che da 20 anni in Venezuela e di 8 anni in Colombia portano avanti la tendopoli quindi sono in Venezuela in Colombia adesso andremo in Perù ed in Panama stiamo vivendo questa bellissima spesa siamo con Claudio che arriva dal Venezuela la prima volta in Italia in Abruzzo la prima volta in tendopoli in Italia no come hai trovato questa tendopoli San Gabriele questo ambiente così pieno di ragazzi pieno di giovani è un ambiente bellissimo perché là in Venezuela adesso tanta comunità insieme non si vede per la situazione una tendopoli importante si parla quest'anno il tema è quello della misericordia c'è tanto bisogno oggi di misericordia di solidarietà sì in questo tempo in tutti i paesi soprattutto Venezuela la misericordia ci vuole tanto a Pianella in provincia di Pescara si è svolto un incontro per presentare il recupero del simbolo della città la torre della Tolfa Vestina News siamo qui davanti alla riproduzione di quello che è il simbolo per eccellenza per antonomasia della nostra città la torre civica della Tolfa ovviamente realizzata questa volta secondo una lettura moderna che vuole vedere questo simbolo non più come luogo di difesa e di chiusura di protezione ma come un luogo di apertura alla cultura e al futuro il progetto appunto della Prologo di Pianella che ha visto la realizzazione di manifestazioni importanti turistico e culturale come in Canti sotto la Luna lo Buongiorno il Rosone d'Oro e da ultimo appunto la realizzazione di due pannelli turistico-culturali e della torre civica che vediamo qui alle mie spalle grande soddisfazione per questa iniziativa della Prologo davvero un progetto straordinario che si colloca in quella che è la più ampia progettualità dell'amministrazione comunale ed in perfetta sinergia con questa certo la torre il simbolo della identità che è presente nel nostro confalone oggi viene recuperata con un intervento mirabile dell'architetto Cancelli ed è un modo per garantire ai giovani ricordare l'identità ma proiettarli verso il futuro il patrimonio di Pianella è stato messo a repentaglio nei decenni scorsi infatti il simbolo è proprio questa torre civica il valore simbolico dell'ubicazione naturalmente non è quella che la torre aveva nel periodo medievale ovviamente di integrazione di inclusione di facile fruibilità in quanto è all'ingresso di un istituto comprensivo A Tottea di Crogna Leto in provincia di Teramo in programma dal 17 18 agosto scusate la decima edizione della Notte Azzurra fra gli eventi in programma ci sono la Pompieropoli e il concerto di Roberto Vecchioni Sindaco la decima edizione della Notte di Tottea avrà quest'anno vari avvenimenti nell'ambito di questo appuntamento Pompieropoli poi il concerto di Roberto Vecchioni tanti eventi per un'edizione sempre più importante Sì certo è un segno di passo decima annualità ancora una volta l'associazione Prologo di Tottea che io ringrazio per quello che è la valenza del territorio per quello che riesce a concretizzare ha fissato un punto di arrivo un importante cantante un evento canoro di rilevata importanza nell'ambito provinciale che gratifica il nostro territorio un altro valore aggiunto è quello che quest'anno siamo riusciti a portare all'interno di questa manifestazione Pompieropoli che è un po' l'addestramento dei più piccoli all'attività dei Vigi del Fuoco Tottea ha inserito l'immagine dei Vigi del Fuoco con questa Pompieropoli che è veramente molto interessante un percorso ludico per i bambini ma più che percorso ludico direi che è un'immagine dei Vigi del Fuoco che ovviamente viene mostrata e quale diciamo categoria migliore per veicolare la sicurezza e la prevenzione nell'ambito diciamo così della nostra vita quotidiana quale è quella dei bambini Saranno gli Asian Dub Foundation a spegnere le candeline del decimo anniversario del festival Pinetnie Moderne con il gruppo londinese l'appuntamento è per il 14 di agosto al Parco della Pace di Pineto Decima edizione di Pinetnie Moderne il festival della musica si svolgerà dal 12 al 14 agosto al Parco della Pace tra l'altro quest'anno ci sono gli Asian Dub Foundation Sì esatto quest'anno il decimo anno festeggiamo il decennale siamo riusciti noi dell'associazione Risvegli Sonori a portare per il primo anno un gruppo internazionale del calibro del Asian Dub Foundation direttamente da Londra un gruppo che parla da solo 11 anni che stanno sul campo hanno fatto 11 LP sono nei principali festival internazionali e nazionali a pagamento invece qui al Parco della Pace il 14 agosto tutto gratuito insieme alle altre due serate il 12 agosto partiamo con Ili Darac che hanno aperto la manifestazione il primo anno del 2007 quindi con loro festeggio il ventennale e con noi il decennale Alessandro Coppola il frontman Salentino poi il 13 agosto ci saranno i Melon Mood con il reg quindi la musica cambia e poi la chicca della Kermes il 14 agosto gli Asian Dub Foundation tutto un evento gratuito noi dell'associazione Resvedi Sonori abbiamo fatto veramente tanti sforzi per portarlo qui in Abruzzo forse il festival più grande quest'anno fra tutti gli eventi vorrei ringraziare tantissimo tutti gli sponsor e anche il Comune di Pineto che ci ha dato una grossa mano e speriamo che il tempo insomma ci assiste e siamo pronti Adesso apriamo la pagina dello sport il Pescara in primo piano ieri la presentazione della nuova squadra ovviamente ancora in completo il quadro della Rosa anche se la società Bianca Azzurra sta lavorando un po' su tutti i fronti ormai è fatta per il difensore della Roma Ghiomber in attacco invece è sempre più vicino Marcello Trotta del Sassuolo Jacopo Forcella Presentato il nuovo Pescara quello che dovrà cercare di centrare la salvezza in Serie A la Rosa non è ancora completa e col mercato aperto non sarebbe potuta esserlo per forza di cose anche se la società Bianca Azzurra per bocca in primis del presidente Daniele Sebastiani lavora su tutti i reparti e conta di arrivare al primo impegno stagionale col Napoli quasi al completo in difesa arriverà Ghiomber della Roma ormai manca solo l'ufficialità il difensore è pronto a lasciare la Roma dopo che nella giornata di ieri c'è stato un incontro tra la società giallorossa l'agente del calciatore Venglos e il suo collaboratore Petras l'operazione è stata definita e chiusa il classe 1992 oggi partirà alla volta di Pescarla il club bianco-azzurro nelle prossime ore limerà anche gli ultimi dettagli incontrando ancora gli agenti dello Slovacco e poi arriverà l'ufficialità non sarà l'ultimo innesto però perché Gaston Silva è vicino a sposare il progetto del Delfino Mijajlovic l'ha bloccato per il match di Coppa Italia vista l'indisponibilità di Molinaro e dunque ci sarà ancora da aspettare discorso di attesa che potrebbe riguardare anche i due nerazzurri Yao e Nukuri con cui c'è già un accordo di massima in mediana c'è l'obiettivo Alberto Aquilani le strade sembrano avvicinarsi e il giocatore potrebbe chiudere col Pescara un contratto biennale a 500.000 euro di base più bonus ed incentivi legati a presenze reti obiettivi di squadre e personali il Pescara inoltre ha chiesto a Napoli il prestito di Grassi attenzionato però anche dal Chievo con Gaston Brugman che invece potrebbe essere ceduto da qui alla fine della finestra di calcio mercato infine l'attacco trotta in gol nel trofeo team di ieri con la maglia del Sassuolo non sembra però rientrare nei piani di Eusebio Di Francesco del più vicino a Biancazzurri con Mitrizza e Nicastro il cui futuro è ancora incerto nei giorni scorsi per l'altro nome è spuntato Federico Macheda anche se attenzione alla situazione Iemmello che non ha trovato l'accordo con lo Spezia e potrebbe accettare le losinghe di Big di Serie A ed essere poi girato in riva all'Adriatico E adesso scendiamo in Lega Pro il termo è sempre alle prese con la difficile trattativa per il rinnovo del centrocampista Stefano Amadio intanto da ieri è ufficiale l'arrivo dal Pescara in prestito di Danilo Bulevardi oggi amichevole a Morrodoro per i Biancorossi ma soprattutto oggi è il giorno dei calendari di Lega Pro e dunque c'è attesa per capire quali saranno le prime partite del Teramo sentiamo il servizio Danilo Bulevardi è ufficialmente un giocatore del Teramo il centrocampista del Pescara è arrivato in Biancorosso e già ieri pomeriggio ha sostenuto la prima seduta di allenamento agli ordini di Lamberto Zauli e lui in ordine di tempo l'ultimo tassello in casa Diavolo che nel frattempo ha ancora a che fare con il difficile rinnovo di Stefano Amadio l'incontro di martedì sera non ha sortito gli effetti sperati e nonostante si vociferasse di un incontro in mattinata con la dirigenza Biancorossa il centrocampista sembra ormai destinato a lasciare il Teramo per accasarsi altrove troppo diverse domande offerta con la società del presidente Campitelli che proprio con l'arrivo di Bulevardi e lo spostamento di Peterman al centro sarebbe di fatto già coperta nelle prossime ore la situazione sarà più chiara quello che è certo è che si va verso la rottura con il club di Via Oberdan per una serie di motivi gli stessi che fino a questo momento non hanno permesso il rinnovo peraltro il Teramo non se la sente di tenere un giocatore col contratto in scadenza questione di motivazioni e di sirene di mercato che si farebbero più insistenti già a gennaio oggi i biancorossi affrontano alla 18.30 il Moro d'Oro ma mentre saranno in campo sarà svelato il calendario della prossima stagione in un girone nei fatti di ferro secondo me il girone è un po' più difficile perché soprattutto non per le squadre al vertice perché comunque tutti e tre i gironi hanno squadre molto forti ma soprattutto quelle media classifica l'anno scorso ho incontrato il Bassano il Pordenone la Feralpi il Padova sono comunque tutte squadre attrezzate per far bene e in più ci sono quelle 3-4 che hanno fatto le squadre per vincere quindi sarà sicuramente un girone tosto però secondo me noi siamo forti e secondo me ce la possiamo giocare con tutte la società ha costruito una rosa competitiva su tutti i ruoli credo che sia un grandissimo gruppo che possa affrontare nel migliore dei modi questo campionato e penso che se la possa giocare alla grande in tutti i campi restiamo sempre al calcio ma scendiamo ancora di categoria per occuparci della serie D sono ufficiali i gironi del campionato nazionale dilettanti 162 squadre in totale le abruzzesi sono state però separate 4 nel girone F 2 nel girone C nel classico girone F in serie Chieti Pineto San Nicolò e Vastese saranno insieme alle marchigiane alle molisane e alle romagnole Avezzano e L'Aquila invece sono state inserite nelle girone G quello che comprende formazioni laziali Sarde ed Umbre e continuiamo a parlare di serie D nuove nubi si addensano intorno alla Chieti Calcio nel giorno della presentazione del nuovo organigramma avvenuto ieri pomeriggio la neoproprietà si riserva altre ore di riflessione per capire se sviluppare o no il progetto calcistico il passaggio di quote è stato fatto soltanto nel momento in cui sono stato io a flemmare e a bloccarlo sai perché? perché non era stata fatta la fiduzione e l'iscrizione perché allora io pensavo che così mi sarebbe stata incollata anche dopo tutti quanti i cosi che c'è da fare anche 31.500 ero più 18.000 ero rotte allora ho detto ho messo a vedere alla prova se succedeva dall'altra parte e l'altra parte l'ha fatta per cui ha salvato lui i chiedi da questa iscrizione che poi per qualcuno sia stata una cosa fatta bene per qualcuno male questo è un altro discorso da quel modo in poi abbiamo parlato noi sono stato dal notaglio Casini che è il mio abbiamo parlato abbiamo fatto le carte è venuto un amministratore di quella come si chiama Emilio Colcini come si chiama Bianchi di Biasi che è lui l'amministratore unico perché è uno solo è un socio solo ha firmato e la cosa sta là ora devo firmare io allora da questo momento in poi da quel momento in poi noi siamo partiti con questa frase con questa frase loro hanno firmato e se io non firmo adesso e me ne ha dato eh ma per questo la sua intenzione qual è per esempio intenzione l'intenzione mia è che qui mi ha creato problemi il comune mi ha creato problemi lo stadio mi è stato chiuso e mi ha creato problemi l'allenatore ha creato problemi a lui ha creato tutto lo staff tutto al chiedi perché io sono di passaggio faccio l'imprenditore ve lo ripeto non faccio il magnate faccio l'imprenditore come ha detto l'avvocato che ha un milione di euro avvocato può stare tranquillo sono cavoli mia se io ho un milione o quattro milioni oppure me lo compro mi compro una persona e mi metto dentro al giardino però il discorso è questo è un altro perché questo ostracismo verso uno che è venuto e boffa al calcio chi sarà lo start del prossimo campionato è il neopromosso Pineto del presidente Silvio Brocco che però si augura un torneo in cui gli adriatici possano ben figurare sarete chiamati ad un ruolo da matricola e per lottare per la salvezza secondo il presidente Brocco questo Pineto ce la farà è il nostro augurio ce lo auguriamo tutti chiaramente adesso vediamo il campionato vediamo le squadre ci renderemo conto chiaramente sarà un campionato molto difficile con veramente delle difficoltà con tanti abruzzesi? in abruzzesi ne siamo sei penso tre molisane però sono tutte squadre attrezzate sarà un campionato bellissimo ci vedrà c'è un protagonisti da matricola speriamo bene c'è anche la Vispesero l'Aquila che potranno dirla loro sicuramente hanno fatto dei grossi investimenti con i giocatori di categoria però noi cercheremo di fare la nostra bella figura ed è tutto per questa prima edizione del TG6 prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 e poi la terza edizione alle 23 grazie per essere stati con noi vi auguro una buona giornata grazie per aver guardato il TG6